Ora una piccola sigla per farvi capire quello che state per vedere Sabri e Ale, in questo formato, cantano la loro vita Let's Musical! Il tema della puntata di oggi è... La nostra daily routine cantata Ehi tu, ma dai, mai il letto mi lascerai Mi sveglio ogni mattina e non devo nemmeno usare il phon Io vado ora in là Un bel caffè mi sveglierà Fuori dalla stanza c'è Un bel gattone che a me fa un miau dal bidet Ma dietro di me c'è chi vorrebbe andare in quel parco lì Su forza metti la maglietta che... Ora siamo io e te, solo io e te Mentre la peladrona dorme Il nostro giro diventa enorme Io ti lancio la tua pallina Ma tu ti siedi sulla panchina Forza, dai torniamo da lei Se sveglia io non lo so Probabilmente no Ma è comunque il nostro amor Solo 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 Colazione non è da me Un croissant Ho un bel pedaio Sole, sole Proverò a mandar giù L'iPhone dove è? Ho da fare Instagram e Youtube poi Sole, sole Sono da controllare Sole, sole Tutta la mia vita lo sai Non cambierei mai Non cambierei mai Tutta la mia famiglia sai Non cambierei mai Non cambierei mai Non mi bevo un bel caffè Facciamo anche tre Anche se Ogni tanto noi siamo un pochino ridicoli Ci basti solo ricordare che Noi siamo sempre Io e te Sempre insieme Io e te Andiamo fuori a cena Non si può Ah già è zona rossa Invitiamo i nostri amici a venire qui per cena Non si può Ok Ordiniamo a domicilio Non si può Come no? I corrieri? Ah si può? Eh si Figata Non devo nemmeno cambiarmi Ho la maglia macchiata Ma che vuoi che sia? La mia croppa è pelata Non è una bugia Senza corrieri Ma che vita sarà? La sabri impazzirà Ale chissà La vita è cambiata Io non lo so Noi che barba Che noia Che noia che barba Una soluzione ce l'ho Ti vuoi bere una camomilla Tu ferma proprio non ci stai Ti prego bevi la camomilla Che così forse ti addormenterai NUTS MUSICAL Ciao ragazzi siamo Ale, Sabri e Gogo oggi E speriamo vi sia piaciuto questo nuovo format che abbiamo voluto portare qui su NUTS Riguardo a questo nuovo format Noi vorremmo che tutti voi sceglieste le prossime canzoni per questo NUTS MUSICAL Anche perché questo qui era un esperimento un po' di prova per capire se vi piace o non vi piace Quindi fatecelo sapere con un commento che per noi è una cosa totalmente nuova Abbiamo già in mente altre puntate Puntate interamente tematizzate Alcune magari a tema solo canzoni della Disney Solo un certo tipo di musica E consigliateci anche voi delle cose che vorreste sentire a questo punto Ma ricordatevi di iscrivervi al canale perché siamo quasi a Siamo quasi a 100.000 mancano meno di 10.000 iscritti e poi faremo uno speciale in cui faremo delle cose incredibili Quelle che abbiamo pensato alla volta Quelle che ancora non ne sappiamo cosa sono Ricordatevi che il nostro shop è qui nella descrizione Sono le felpe, le magliette, c'è un sacco di cose molto molto belle di NUTS Se volete spedirci qualcosa la nostra casella postale è Sabrina Cereseto Casella postale 131 Arcore 2862 No cartelloni, no cibo, per favore Le canzoni che sono state scelte per questo video che Perché magari così qualcuno non le conosceva Conoscete le canzoni nuove si va ad ascoltare le originali Posso dire che la prima puntata le ho scelte io? Si vero Allora la prima che ho scelto per lui è Viva la vita dei Coldplay Poi quella che ho scelto per me che è Send On My Way Bravissimo Dei Roosted Roots Un nome così Per me voi la conoscete perché è la colonna sonora dell'era glaciali e di Matilda Semitica E poi avevo scelto tre canzoni Disney che fanno parte un po' della nostra vita Ovvero quella del Re Leone Appenomatata Quella di Toy Story Hai un amico in me E poi visto che a me piace tanto 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 Oceania Tranquilla Esatto Che tra l'altro canta The Rock Dwayne Johnson nell'originale che mi assomiglia moltissimo Cioè abbiamo lo stesso fisico praticamente Intendi che non avete i capelli Anche vedi l'ennesima cosa che ci accomuna Ma hai visto che noi siamo il guardiano dell'acquario? Probabilmente quando vedrete il prossimo video il set alle nostre spalle sarà un pochino cambiato Perché abbiamo in cantiere tutta una ristrutturazione di questo spazio per renderlo più No, nel prossimo quello dopo ancora No, secondo me già nel prossimo lo possono vedere Comunque lo vedrete a breve Iscrivetevi, lasciate un like Fate quelle cose lì Anche perché noi abbiamo quasi 100.000 iscritti Ma facciamo molte più views degli iscritti che abbiamo E' una cosa che non va bene Perché non c'è gli iscritti puzzolenti Ricordatevi che noi siamo Sabri ed Ale E ci vediamo molto presto qui su Netflix Ciao 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 Ciao